Il castello di Hogwarts è stato costruito da quella magia antica e ne è un baluardo. Non so come si è entrato in possesso della passaporta, ma sono sicuro che c'entri quella sua ricerca. Ah, ecco laggiù il sentiero. Di qua! Perché sua moglie cercava tracce di una magia perduta, signore? Miriam voleva capire come mai una magia così potente fosse scomparsa. Parlava sempre del bene che avrebbe potuto fare. Ma la magia è come ogni altro potere. Ciò che conta davvero è chi sia a controllarlo. È ghiaccio. Non fa abbastanza freddo qui. Deve essere opera di un incantesimo. Volevano bloccare questa strada. Mostrami il risultato del tuo lavoro con la pacchetta. Mira al centro!